Ciao a tutti! Ciao! Oggi siamo a fare un'altra arrampicata. Dici dove siamo geograficamente? Geograficamente ci troviamo in Val d'Aosta a Donà. Donà? Donà. Con l'accento sulla? Ah. E qui siamo precisamente, in questo posto, un climbing park, ci sono tre falesie per arrampicata e una via ferrata facile. Le tre falesie sono di diversi livelli, facile, media e difficile. Questa è la falesia facile. Vediamo le vie di arrampicata. Ce ne sono otto qua. Si parte dalla più facile, sulla sinistra. Andiamo a vedere. La giù sono le vie più facili. Vedete, sono le vie più facili che si parte dal livello 4A e sono corte. Poi andando verso la destra, si sale 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C. Sono otto vie, otto vie di arrampicata. Poi ora vediamo quella che noi abbiamo appena aperto. Non aperto, perché non si dice aperte, non si dice salire. Abbiamo salito per la prima volta, io l'ho salita per tre volte e poi l'ho risalita per la seconda volta e anche la terza volta. E questa qui è la via di arrampicata che abbiamo aperto, l'abbiamo fatto. Questo qua è il livello 5C, dove c'è il primo pezzo, il primo pezzo c'è un passaggio un po' impegnativo, che è il 5C, e poi dopo è molto facile. Quindi niente, ora ci mettiamo, vediamola. Ora ci mettiamo in temperatura, io scalo, Patrizia fa da sicura. Faccio da sicura. Patrizia sei pronta? Anche oggi faccio da sicura. Certo? No, ancora no, mi manca la corda attaccata da attaccare. Ci mettiamo l'imbrago, la corda, ci prepariamo e partiamo a scalare. Ciao. Eccoci qua, siamo davanti alla parete. Patrizia è pronta a farmi sicura. Siamo pronti. Oggi abbiamo anche la truppa di cameraman, pronti? Sì, con il drone. Oggi con il drone, con il telefono, il GoPro, abbiamo di tutto. Andiamo, si parte. Questo è il 5C, c'è un punto iniziale che è un po' trasto. Poi dopo il punto iniziale diventa abbastanza fattibile. Allora, questo qua è il punto piuttosto. Vediamo un po' come farlo. o che è il punto iniziale. Ok, passaggio un po' rosso fatto, eccoci qua, passaggio fatto, ora resta la via. Molto facile, qui è una buona via per fare un po' di allenamento, ma il punto iniziale è tosto, qui il resto è tranquillo. Ok. È arrivato, ecco il drone. Ora, se ci si cala, vai scendiamo. Allora, mi calo. Ecco. 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 Guardi qua c'è un bel paio di rama come si vede da prima, un bel punto per fare un po' di allenamento, è una farise facile, però è bellino per le nozze, aspetta, aspetta! Allora, già che ci siamo, visto che è stato veloce, rifacciamo il punto iniziale, che questa è via, il punto tosto o il punto iniziale? Sì, il resto è semplice da fare, è bello inarzi a fare il punto iniziale, che ha una gestione di difficoltà, anche prima mi ero dimenticato il punto per fare la presa che era questo, poi c'era questo, questo, qua di qua, si passa di qua, si fa il cambio piede, e si va in avanti di qua, ok, così, ora, bello, lo fate un po' meglio, questo qua è il punto piuttosto della ferrata, dell'arrampicata, poi andiamo facendo? del punto po' molto più, si, si. odo? Espetta che mi ricorda? bekommenário clienti rispondo della ferrata? è la mia sicurezza soddisfatta dell'arampicata? si si assolutamente si qua c'ho i due cameraman ecco lì Leonardo Gabriele che è il dronista ecco il drone che vuole un altro nel cielo beh allora questa questa via è stata fatta appunto inizio a cominciare un po' tosto poi per il resto fattibile per questo tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao